Per me siamo in linea con quelle che potevano essere le aspettative di inizio campionato. Sono un tipo ambizioso e quindi chiaramente mi sarebbe piaciuto fare molto di più, soprattutto visto e considerato l'inizio di campionato. Però diciamo che guardando anche le squadre che sono di sopra di noi ci sono squadre molto attrezzate e quindi è chiaro che non è stato facile pensare di superarle. Però per me il campionato è in linea con quelle che erano le aspettative e comunque il pensiero che si poteva avere all'inizio. Mi auguro di fare un bel playoff e quello può influire tanto perché comunque è come se iniziasse un altro campionato e quindi influirà anche quello nel giudizio complessivo dell'annata. Siamo solo alla fine del campionato e abbiamo un altro campionato davanti molto importante e speriamo che sia lungo. Ma il mio augurio più grande è quello di poterci giocare la partita in casa perché abbiamo visto anche l'anno scorso quanto sia importante se non decisivo perché l'anno scorso pareggiando 0-0 a Catanzaro siamo usciti ed è chiaro che giocare la partita in casa è quasi come aver fatto già un gol, come partire già in vantaggio. E sarebbe una cosa veramente importante e che ci può veramente avvantaggiare. Poi per chi possa essere l'avversario sono avversari con caratteristiche diverse, tutte squadre molto importanti, quindi in base a quello che sarà la prepareremo, però penso che sia veramente importante fare i tre punti e sperare che gli altri risultati siano favorevoli per poterci giocare le nostre carte in casa. A me piacerebbe giocare tutte le partite, quindi anche negli allenamenti mi sono sempre allenato bene, e poi il mister fa le sue scelte, io sono a disposizione, quindi sono contento appunto di essere rientrato con il Bisceglie, che ci sia stata la vittoria, poi c'è stata la squalifica, quindi uno stop forzato e adesso sì, sono assolutamente concentrato su quella che è la partita di domenica in prospettiva dei play-off. Io penso che tutti vogliano fare bella figura e non credo che vengano qui a non battagliare, penso che tutti, anche magari chi ha giocato meno, comunque se giocheranno i titolari, vogliano fare una bella figura e vogliono concludere al meglio il campionato, quindi non c'è questa cosa che la vittoria sarà scontata. Noi dobbiamo prepararla al meglio, la stiamo preparando al meglio, sappiamo che è una squadra forte, molto fisica, come abbiamo visto all'andata, dobbiamo cercare noi assolutamente di raggiungere i tre punti, perché avremo motivazioni sicuramente superiori e dobbiamo dimostrarlo in campo di prenderci questi tre punti e di cercare di giocarci le nostre carte per fare la prima partita in casa dei play-off. Grazie.